Allora, innanzitutto volevo dire che questa è la terza inaugurazione in poco tempo in cui ci troviamo tutti insieme, a breve ne faremo una quarta. Ringrazio Eracom per questa opportunità bellissima che ci sta dando ormai da un po' di tempo. Da parte nostra faremo il massimo per riuscire a onorare questo tipo di impegno. Grazie a tutti per essere qua, grazie mille. Grazie, grazie. Pronti, via! Eccoli! Vai, auguri! Grazie, auguri!